Colli al Metauro parte terza, dopo la fusione e l'elezione del sindaco ora tocca agli amministratori per chiudere il cerchio di questa fase storica e dare così inizio con il primo consiglio comunale alla vita di questo nuovo comune. Le idee chiare Stefano Guzzi le ha sempre avute fin dalla composizione della sua squadra, equilibrio, territorialità, esperienza ed i risultati si sono visti, ma vediamo nel dettaglio gli incarichi che sono stati assegnati. Il sindaco Guzzi si è tenuto le deleghe per urbanistica, SUAP e sanità. Vice sindaco Andrea Giuliani avrà le deleghe per semplificazione, turismo, servizi comunali, cultura e servizi pubblici. Primavera Emanuela, bilancio, tributi, servizi generali, legali, servizi demografici. Pietro Briganti, pubblica istruzione, servizi educativi, sport e associazionismo, oltre a viabilità e polizia locale. A Sciriscioli Fabio assegnate le deleghe per lavori pubblici, servizi cimiteriali, patrimonio e protezione civile. Alla neoeletta Mascarucci Anna Chiara, una delle più votate in assoluto, sono andati i servizi sociali, le politiche giovanili, i gemellaggi e i servizi istituzionali. Una battuta è duopo sul discorso costi, quanto costerà la macchina amministrativa perché se ne è sentito di ogni e di tutti i colori? Io non so quant'è il mio stipendio con esattezza, nel senso che non l'ho profondito. Ho chiesto prima di sopra a ragioniere capo e mi ha detto che il lordo del sindaco di Colle Metauro è 2.600 euro al mese per 12 mesi perché non c'è tredicesimo. Quindi io deduco, stornato dai contributi, sarà sui 1.700 e 1.800 euro. Io ovviamente applicerò il minimo previsto per legge, non prenderò alcun rimborso di nessun tipo, né chilometrico né di altro tipo. Io non porterò, come non ho mai portato a Fano per dieci anni, non porterò a Colle Metauro un solo scontrino di rimborso in questi prossimi cinque anni, né per un pasto che posso fare fuori, né quello di questo genere. Stipendio base, minimo sindacale, come si dice. A cascata questo varrà anche per i miei assessori. Se pensate che un assessore prenderà il 45% di quello che prende il sindaco e a sua volta avrà lo stipendio dimezzato perché se è lavoratore dipendente e non va in aspettativa, lo avrà dimezzato, un assessore di Colle Metauro prenderà più o meno 400-450 euro al mese. Ecco, le famose spese pazze dei comuni di Colle Metauro.